Per me è un'esperienza fantastica che porterò per sempre con me, spero di continuare, di restare alla Lazio. È importante perché io sono partito da zero, sono partito da Santa Croce di Magliano, ho deciso di andare a studiare a Roma. A Roma mi è capitata l'opportunità di fare uno stage con la Lazio, poi c'è stata l'opportunità di restare con la Lazio, sono rimasto. Ho fatto questa esperienza e spero, come ho già detto, di restare, diventano, non so, da forze maggiori. È comunque un'esperienza fantastica perché porterò sempre con me, quando avrò dei figli, avrò dei bambini, potrò dire che io sono stato ad allenare alla Lazio e penso che è un'esperienza che non tutti si possono fare e io sono troppo felice per questo. Mi occupo specialmente delle capacità coordinative, che sono quelle capacità che migliorano nella fase di idrata ai 10 ai 14 anni, 15 anni, che è la fase dello sviluppo. Lavoriamo di meno o quasi niente sulle capacità condizionali, intese come forza e resistenza, perché, come sappiamo, se carichiamo molto su queste capacità si va a infancare il metabolismo di ogni bambino. Quindi lavoriamo sulle capacità coordinative per migliorarle e quindi miglioriamo queste capacità.